Ciao a tutti ragazzi, eccomi con un nuovo video e questa volta già vi annuncio che sarà un game changer. Specifico subito che non è tutta farina del mio sacco, a parte un fix che ho dovuto apportare. Infatti il setting che ora vi mostrerò è stato realizzato da ArtisWar, uno streamer e youtuber americano che ha avuto un bel passato di lavoro nei film, del calibro di Better Call Saul e Il Camino, il film su Breaking Bad. Con questo sono qui a rifare passo passo ogni step di questa miriade di passaggi con voi, così da riportarvi il tutto in chiave italiana, in modo tale che anche noi possiamo abusare di questo setting perché vi assicuro che vi svolterà il gameplay. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo! Per prima cosa avremo bisogno di questi due file qui in alto a sinistra. Per scaricarli vi basterà entrare nel Discord ufficiale del mio canale. Se non siete già dentro, troverete il link di invito al Discord direttamente nella descrizione di questo video. Una volta dentro dovete ovviamente autenticarvi con la spunta verde prima e con la selezione dei ruoli poi. Dopodiché andate nella sezione Code Download e da qui scaricate i due file necessari. Una volta scaricati dovete decomprimere i due file. Subito dopo aprite la cartella Ads Download. Qui troveremo tutte le app che ci servono per applicare il preset definitivo per sentire passi. La numerazione a sinistra delle cartelle è l'esatto ordine di installazione delle stesse. Quindi iniziamo da HiFi Cable. In linea teorica dovreste vedere un piccolo scudo nell'icona. Questo significa che verrà installato con permessi d'amministratore. In caso non avete lo scudino, secondo clic ed eseguite come amministratore. Specifico che questo vale per tutte le altre app. Ora clicchiamo su Install e poi OK. Non riavviate ora perché faremo un riavvio unico più avanti. Passate alla prossima app, VoiceMeeter, e fate la stessa identica cosa. Install. OK. E potete chiudere il browser che si aprirà. Ora è il turno della terza app, Equalizer e IPO. Installatela come sto facendo io e mi raccomando non modificate assolutamente il percorso di destinazione. Arrivati a questo punto dovete andare a ricercare la periferica virtuale che abbiamo installato all'inizio, HiFi Cable. Ora vi prego di ascoltarmi molto attentamente. Qui non dovete fare come sto facendo io, ma bensì dovete semplicemente cliccare la spunta a sinistra di HiFi Cable e poi cliccare su OK. Ricliccate OK. E di nuovo non riavviate, quindi selezionate la seconda opzione e cliccate su Finish. Ora passiamo alla prossima app, Esubi. Qui è tutto molto semplice. Apritela, cliccate su Sì, e poi lasciate fare a lei fino a quando la finestra scura di CMD non si chiude da sola. Bene, ora chiudete il browser che si è appena aperto e chiudete anche la finestra di Esubi, perché ci torneremo poi. Ok, ora passiamo alla quinta e ultima app, Reapplies. Apritela e installatela esattamente come sto facendo io. Anche qui, mi raccomando, non modificate assolutamente il percorso di destinazione. Cliccate su Close e poi OK. Ok, bene, abbiamo finito con le app. Ora aprite il file di testo. Qui troveremo una stringa lunga tre righe e servirà ad attivare l'equalizzazione e sonorità sulla periferica virtuale che abbiamo installato. Quindi, copiamola, chiudiamo tutto e nello strumento cerca andiamo a scrivere PowerShell. Secondo clic e lo eseguiamo come amministratore. Una volta aperto, incolliamo qui la stringa premendo CTRL più V. Premete invio e qui dobbiamo dirgli sì a tutti. Per farlo, basta che scrivete la T di Taranto maiuscola e di nuovo invio. A questo punto vi chiederà quale periferica applicare l'equalizzazione e sonorità. Qui noi gli dobbiamo dare la prima app installata. Per visualizzarla e non sbagliare a scrivere il nome, vi basterà cliccare la cassa in basso a destra, poi questa icona, poi altre impostazioni di volume, vai in fondo alla pagina e clicca Altre impostazioni audio. Volendo, c'è un metodo più semplice per arrivare qui ed è quello di andare nello strumento cerca e scrivere MMSYS.cpl e premere invio. A questo punto, quello che dovete fare è cercare la periferica Hi-Fi Cable Input e dovete copiare l'esatto nome rispettando anche le maiuscole e le minuscole dentro PowerShell scrivendolo a mano. Una volta fatto, premete invio e vedrete refreshare il tab audio. Questo significa che l'equalizzazione e sonorità è stata abilitata su Hi-Fi Cable. Fatto questo, chiudete PowerShell e selezionate Hi-Fi Cable. Poi cliccate su Configura, selezionate Surround 7.1 e poi completate il tutto cliccando avanti più volte fino alla fine senza modificare altro. Ora, riselezionate Hi-Fi Cable Input e questa volta cliccate su Proprietà. Andate nel tab Caratteristiche Avanzate e attivate l'equalizzazione e sonorità. Poi, cliccate Impostazioni e posizionate il selettore tutto su Breve. Premete OK, Applica e infine di nuovo OK. Ora andate nel tab Registrazione e selezionate Hi-Fi Cable Output. Cliccate su Proprietà, aprite il tab Avanzate e sostituite i 24 bit 44100 Hz con i 24 bit 48000 Hz. Fate Applica, OK e di nuovo OK. Bene, ora inizia la parte un po' complicata perché ahimè questo setting audio non va bene per tutti i PC. Quello che ho constatato personalmente è che su Windows 10 ha più probabilità di funzionamento a differenza di Windows 11. Ma non disperate, ho un fix per questo come dicevo ad inizio video. Allora, siccome abbiamo abilitato l'equalizzazione e sonorità sull'Hi-Fi Cable, in linea teorica l'impostazione di Equalizer e IPO fatta sulla periferica virtuale si è rotta e questo è tecnicamente un bene. Ora però dobbiamo verificare se così è stato. Quindi andiamo nello strumento Cerca e scriviamo Configurator. Apriamolo e ricerchiamo Hi-Fi Cable Input. Bene, come state osservando dal video effettivamente la spunta blu che avevamo messo in precedenza non c'è più. E questo significa che tutto sta andando per il verso giusto. Ora però sono sicuro che ad alcuni di voi invece la spunta blu è rimasta attiva. Quindi quello che dirò adesso è rivolto solo a voi. Per tutti gli altri dovete attendere un attimo. Ok amici baggati dato che io sono uno di quelli baggati come voi. Come fixiamo? Bene, anzi, male. In pratica dovete disinstallare tutte le applicazioni installate finora. La lista la ritrovate nella stessa cartella dove le avete installate. Riavviate il PC procedete a reinstallare il tutto riseguendo passo passo gli step ad inizio video e arrivati al minuto 2.26 circa fate esattamente quello che faccio nel video e che dico di non fare. Riarriverete qui e a questo punto tutti, baggati e non avremo la medesima situazione. Quindi torno a parlare a tutti quanti. Bene, ora cliccate la spunta di fianco ad iFi cable input cliccate su ok e infine è arrivato il momento di fare il riavvio. Ci vediamo a breve. Eccoci nel post riavvio. Ora possiamo passare ad impostare tutte le app. Per prima cosa andate nello strumento cerca e scrivete ESUBI apritelo e qui dentro nella sezione di sinistra cliccate su Atmos- che è la stessa impostazione dell'Atmos che tutti conosciamo ma senza il riverbero quindi senza quell'effetto stanza che in game non ci serve. Subito dopo andate nella sezione di destra il Matrix Upmix e deselezionate Stereo. Poi nella parte bassa in Volume Adjustment lasciamo invariati Master, Center, Side e Rear. E regoliamo invece Front che è quel selettore che va ad influenzare il rumore della nostra arma mentre spariamo e il rumore dei nostri passi mentre corriamo. Qui se ad esempio il valore lo impostate a 0 i vostri passi sono praticamente quasi del tutto annullati. Detto questo il miglior setting non esiste qui va in base alle vostre preferenze. Posso dirvi che i top streamer lo usano a 14 ma quello che posso consigliarvi io è di spaziare tra i 15 e i 50. Quindi testate questo valore più volte fino a quando non trovate il miglior settaggio per voi. Più avanti vi farò vedere come. Passiamo invece al selettore LFE. Qui il valore da mettere invece è soltanto 1 ed è 0. Questo selettore controlla la stragrande maggioranza dei suoni ambientali quindi più l'ambiente è basso è meglio E. Passiamo ora ad Equalizer e IPO. Quindi clicchiamo la lente e scriviamo Configuration Editor. Apritelo. Cliccate No. e nella sezione Device selezionate Hi-Fi Cable. Subito dopo pinnate questa applicazione nella barra in basso perché a breve dovete riaprirla. Ora cliccate questa icona e poi aprite la seconda cartella che avete scaricato dal mio Discord. Qui dovete semplicemente copiare e incollare i due file nella cartella aperta su Equalizer e IPO. Sostituite File poi selezionate quello che si chiama AIW Warzone 2 Season 4 e cliccate su Apri. Una volta che la schermata di IPO è cambiata dobbiamo focalizzarci sui plugin e su tutti e tre dobbiamo cliccare Open Panel poi Apply Automatically di nuovo Apply e infine OK. Fatto questo il prossimo step è chiudere e poi riaprire IPO. Cliccate su No e ora potete chiudere il tab AIW. In questa pagina assicuratevi di avere nella stringa 2 e nella stringa 4 gli stessi nomi che leggete qui nel video e che in Device e Channel ci siano rispettivamente Hi-Fi Cable e 7.1 Surround. Fatto questo possiamo tranquillamente chiudere l'app. Bene, siamo arrivati all'ultima app da settare quindi tornate sullo strumento Cerca e questa volta scrivete Voice Meter. Apritela e attendete che la barra in alto a destra sia caricata completamente. poi nella prima colonna a sinistra cliccate su 1 e selezionate WDM Hi-Fi Cable. Nell'ultima colonna a destra selezionate invece il device che solitamente è il vostro predefinito. Lo potete vedere in basso a destra cliccando sulla cassa audio nel mio caso è altoparlanti GSX1000. Andate ora su menu in alto e assicuratevi che Auto Restart su A1 Device e All Device siano flaggati entrambi. Poi ritornate su menu e flaggate System 3. Di nuovo menu e flaggate Run on Windows Startup. Come ultimo step tornate su menu e questa volta cliccate System Settings. Qui andate sulla sezione Buffering WDM cliccate su 512 poi OK e selezionate il valore 192. Voglio specificare una cosa 192 per molti sarà il valore definitivo ma se per alcuni il suono in game inizia ad essere robotico metallico scoppiettante tornate qui e andate per step prima con il 224 poi con il 256 poi con il 288 e via discorrendo fino a quando il vostro suono non è perfettamente limpido e pulito. Fatto questo vi spiego cosa fa di preciso voice meter. In pratica il preset audio che abbiamo installato sull'i-fi cable colonna di sinistra viene virtualmente iniettato nel vostro device predefinito colonna di destra ma contemporaneamente crea un virtual input dove viene invece streammato il vostro audio nativo e pulito quindi senza preset precedentemente impostato. Infatti quello che faremo sarà andare sulla cassa in basso a destra e selezionare voice meter come device di default poi andiamo su discord impostazioni voce video e in dispositivo di uscita anche qui selezioneremo voice meter così che tutto quello che ascolteremo sia chiamate con gli amici su discord o un video su youtube o una canzone su amazon music non sarà infettato dal preset fatto per call of duty. Il prossimo step riguarda invece un file di gioco di warzone 2 quindi andate su documenti call of duty players e con un semplice editor di testo aprite il file options 3 code22 punto cst qui proprio all'inizio nella riga audio wanted channels number scrivete 0 al posto di qualsiasi numero ci sia già scritto di default salvate e chiudete tutto prima di passare al prossimo step vi rubo solo un attimo per dirvi che se lo sforzo fatto per riportarvi questi passaggi in italiano lo state apprezzando beh allora iscrivetevi mettete like e attivate la campanella per voi è completamente gratuito ma per il mio canale è di vitale importanza ok adesso quello che dovete fare è un semplice double check quindi andate sullo strumento cerca e scrivete di nuovo mmsys.cpl apritelo e nel tab riproduzioni come sto facendo io dovete semplicemente verificare che sul vostro dispositivo di riproduzione predefinito e sui due dispositivi virtuali creati ci sia l'impostazione dei 24 bit a 48.000 Hz fatto questo andiamo sul tab registrazione e rifacciamo la stessa cosa ma solo con i due dispositivi virtuali infatti come potete osservare nel mio caso voice meter non era impostato correttamente fatto questo potete chiudere la finestra passiamo ora all'ultimissimo step il setting in game qui il mix audio migliore per questo preset è l'home theater in volume generale vi consiglio personalmente di stare in un range che va dai 50 ai 70 per i restanti selettori in mostra di più vi basterà copiare i miei tranne che per i brani da guerra li va in base alla vostra preferenza fatto questo in dispositivo suoni del gioco selezionate hi-fi cable in dispositivo di output chat vocale invece selezionate voice meter così da avere il proximity chat pulito senza essere infettato dal preset in dispositivo di input microfono invece selezionate il microfono che utilizzate di default nel mio caso il wavelength stream passiamo ora ai test veri e propri aprite suvi mentre siete in game e qui dovete investire un po' di tempo per testare le varie opzioni qui vi darò degli esempi ascoltate bene sia il rumore dell'arma sia i miei passi sia la direzionalità dell'audio ripeto questo setting si basa interamente sulle vostre preferenze quindi testate testate ritestate faccio solo una specifica se nel caso in cui modificate il front channel su esubi e in game il suono dei vostri passi rimane invariato significa che o avete errato qualcosa nei passaggi e quindi dovete rifarli da capo seguendoli con più attenzione passo passo oppure perché rientrate nel range dei buggati e quindi dovete seguire con attenzione quello che dico al minuto 7 circa e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile. Vi lascio a questa fantastica win che abbiamo fatto in duo su Bondel con Scudo e Tonfa, che ho trovato veramente super divertente da giocare. A me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video. Ho fatto la tocca al grappolo, mi piastro. Sono rimesso in terra. Che nome sono c'è me? Stunno. No, lo stumi indietro. Dai indietro, dietro, appino. Uno l'ho fatto, uno l'ho fatto. È gibato pure. Gibato. È ancora lì, è ancora lì. Non ho l'autoressa. Sa che non ti può busciare questo. Peggio ancora? Cazzo, arriva il fumo. Sì, ho visto. Ma io c'avevo una tolessa. Ah, eccolo. Non abbiamo granate, Pino, fumogene. Mi butto in acqua, che in acqua facciamo male. Io ne ho fatto uno. Grande. Nel dubbio. Eccolo, questa è in acqua. Ma sei certo? Ci sono io. Col coltellino tattico conviene hittare col coltellino tattico, tanto pare. Spide un po' di piastre. Io sono pieno. Pila le tutte tu, queste? Eh, sì, vado. Pila la maschera pure. La maschera è 76%, va bene la mia. Eh, me la faccio a nuoto. Allora, Piero, che bola. Chi è? Ah, non sei tu. Hai gli stunni? Ti serve la cassa? Eh, c'ho tutto. Oh, oh! Ho passato sulla testa al coltello. Ahia! Aspettate. Qualcuno su attacqua? Lo voglio smangarellare. Non lo vedo neanche uno. Non lo vedo neanche io. Mi fico a respirare qua in mezzo. Ok. Ok. Aspetta qui. Ok. Mi sa che qualcuno si deve buttare da sopra di te. Ma lo aspetta sotto acqua. Eccolo. No! Trottuno? Ninja! Beh, che bello. Quando li colpisci dietro di noi, mi sa. Quando li colpisci direttamente con la stun che ti dà l'hitmark. Dietro! Oh, ha restato qui. Tieni. Aspetta, aspetta che c'è un pureggio in alto. No, va di là. Merda. Eccolo, lo vedo. Sta salendo. Sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. E che viene da noi? No, cazzo. Mi butto in... Mi butto qua sotto, Pino, eh. Dentro di noi! Dentro di noi! Ho sbagliato! Eh, ma... Ma ha visto, ma ha visto. Non posso risalire. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Dretti in me. È qua da noi! Smazzoccano! Ma di là qua! No, non mi spiastra, Pino. Aia! Ok, mi si è piastrato. Mi chiede, c'è uno, non mi ha capito, Pino! Come cazzo è che sono ancora vivo? Io devo stare a dire... Mi sa che stanno qua dentro. È qua, è qua, si è buttato! Smazzocca! Ah, no, mi ha stunnato. Mi ha stunnato, non posso aiutarti. L'ho fatto, ho fatto uno. L'ho fatto qui. Aia! Sopra di me! Si è che c'è uno scudo, non mi prende! È bellissima. Mi chiede un coltellino, porco di... Facciati! Arriva! È qua dietro! Dov'è? 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 È in direzione qui. L'hai fatto? È sopra? Stunno? Stunno? Vado, 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 vado! È tu loco! Andiamo! Andiamo! Eingo, andiamo!